Benvenute e benvenuti ad una nuova puntata di Tabù e Tatù. Io sono Serena Secchi e siamo ai microfoni di Radio Sankara. Oggi è il 28 settembre ed è la giornata globale per l'aborto libero, sicuro e gratuito, motivo per cui abbiamo deciso di inserire nella settimana speciale dedicata al benessere sessuale proprio l'argomento dell'aborto, della libertà soprattutto che hanno e devono avere le donne di scegliere. Oggi non una di meno e altre realtà transfeministe si sono mobilitate in varie città d'Italia proprio per andare a manifestare contro quello che invece in questo momento è ancora il clima che è intorno all'aborto, perché l'aborto ancora non è un diritto garantito, è necessario e molto importante riuscire ad andare oltre la 194 perché sul corpo delle donne devono essere le donne a decidere. C'è una bellissima puntata, non bellissima perché l'ho condotta io, ma bellissima per il suo contenuto che potete trovare nella lista del podcast Tabù e Tatù ed è stata proprio la prima puntata nella quale insieme a Federica Di Martino, psicologa e psicoterapeuta, abbiamo affrontato la narrazione dell'aborto differente rispetto a quella più comune che ci viene presentata, cioè avvicinata sempre a un evento doloroso e traumatico a causa poi della mancata maternità o a causa di quello che ha portato una donna a prendere la decisione di appunto interrompere la gravidanza. Cercatevela perché ascoltandola capirete molte cose in più su questa narrazione differente e assisterete a quella che è un po' una destigmatizzazione proprio dell'evento aborto. Infatti Federica Di Martino fa parte del progetto IVG, interruzione volontaria di gravidanza, ho abortito e sto benissimo. Quando è che si parla di aborto sicuro? Ma soprattutto perché in Italia non ci sono queste condizioni? L'aborto sicuro, fare un aborto in sicurezza nel 2023, significa avere la certezza di poter interrompere una gravidanza in piena sicurezza, nel rispetto della propria salute fisica ma anche mentale, che si possa farlo gratuitamente e senza stigmi sociali. In Italia purtroppo queste condizioni non sono garantite, sono messe a rischio e minate costantemente da situazioni e vuoti normativi che ci mettono purtroppo tutte in pericolo, perché capita molto spesso che negli ospedali le donne vengano rimbalzate nel momento in cui decidono di abortire, perché c'è ancora una grande quantità di ginecologi, obiettori di coscienza, non solo ginecologi ma anche anestesisti e questo porta a dei grandi rallentamenti. Capita anche che accanto alle stanze dove una donna va a intraprendere l'iter per poi arrivare all'interruzione volontaria di gravidanza, ci siano delle stanze piene di personale legato ad associazioni pro vita che cercano di convincere le donne a non abortire e tante volte in alcune regioni capita che questi stessi luoghi siano sovvenzionati proprio dalle regioni. Capita molto spesso che poi le donne che decidono di abortire vengano un po' colpite, vengano un po' rimbalzate proprio dallo stigma sociale che le dipinge come persone senza scrupoli, donne senza istinto di maternità, mostri che decidono di non portare avanti una vita. Ecco questo è quello che sentiamo dire molto spesso dalle associazioni pro vita e dobbiamo secondo me lavorare tutti noi proprio per questa destigmatizzazione, perché una donna che decide di abortire non credo che lo faccia a cuor leggero, ma anche qualora lo facesse non spetta a nessuno il diritto di giudicarla, perché l'unica persona che può decidere sul corpo di una donna è la donna stessa. Sui siti di diverse regioni si trovano tutte le documentazioni, io sono andata a guardare quella relativa alla nostra regione, cioè la regione toscana, che dà una chiara descrizione su quello che è la legge 194, su come avviene e dove avviene l'interruzione volontaria di gravidanza, sono spiegate bene, sono molto chiare, dettagliate sia nel caso in cui la donna sia maggiorenne che minorenne e viene spiegato anche quali sono le due metodiche con le quali si può interrompere una gravidanza, quella chirurgica e quella farmacologica, anche se sappiamo che ancora oggi quella chirurgica è quella che viene molto più promossa ed ancora in diverse regioni è molto difficile riuscire ad accedere all'aborto farmacologico. Oggi a Tabuettoon ne parliamo, parliamo proprio di aborto perché? Perché spesso l'aborto è collegato allo stereotipo che abbiamo detto prima della donna fredda, gelida, che commette un atto terribile e noi vogliamo oggi invece andare a sfatare un'altra cosa riguardo proprio l'aborto. Che cosa succede quando parliamo di aborto? All'interno di una qualche discussione che possiamo andare a intraprendere con altre persone capita che qualcuno inizia ad associare il discorso dell'aborto al concetto dello stupro. Questo perché? Perché accade che le persone che si sono trovate coinvolte in una discussione nella quale si parla di interruzione volontaria di gravidanza tendano a solidarizzare con la donna che decide di abortire o sono più propense a comprendere la sua scelta quando questa scelta è legata a un evento doloroso. Capita che in questi discorsi si senta qualcuno tirare in ballo l'ipotesi che magari una donna che ha subito violenza sessuale e che a causa di questo è rimasta incinta sia giusto che possa ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza. Il concetto fondamentale che deve passare è che le donne devono poter essere libere di abortire indipendentemente e i motivi che spingono e che portano una donna all'interruzione volontaria di gravidanza devono prescindere da come la donna in questione abbia vissuto il rapporto sessuale nel quale poi è rimasta incinta. Le donne devono poter abortire non solo se hanno subito uno stupro non solo se si trovano in una condizione economicamente o emotivamente difficile. Le donne devono essere libere di decidere per se stesse di interrompere una gravidanza anche se sono sposate anche se sono conviventi anche se si trovano in una relazione consolidata serena felice stabile con un uomo che amano e del quale sono rimasta incinta. Le donne devono poter decidere di non essere madri devono poter decidere di non portare avanti una gravidanza e questo non soltanto in caso di violenza sessuale perché la loro scelta non ha meno valore e non ha meno importanza se viene inserita in un quadro di un rapporto gratificante sia esso poi occasionale o strutturato. Questo è un grande grandissimo stereotipo della nostra società la giustificazione di una scelta altrui maggiormente supportata e compresa se passa attraverso la lente del dolore della sofferenza. Il modo migliore per andare a difendere i diritti delle donne non deve essere quello di giustificare le loro scelte soltanto quando si trovano costrette per situazioni drammatiche ad avortire ma dobbiamo cominciare ad interrompere questa narrazione vittimistica che va proprio in controtendenza con quella che deve essere la direzione che dobbiamo prendere. È importante che il focus rimanga concentrato esclusivamente sulla diritto della donna di decidere e agire su se stessa. Nel salutarvi augurandovi una buona serata dopo questa puntata un po' pillola ecco una puntata molto breve e concisa invito tutti voi ad andare a cercare sul sito della ASL corrispondente le notizie riguardanti il diritto alla contraccezione gratuita perché stando a queste informazioni sono diverse le persone che possono avere diritto ed accedere alla contraccezione gratuita e invito quindi ad andare a controllare perché ecco non si tratta soltanto della contraccezione con profilattici ma anche ovviamente pillola estroprogestinica e progestinica il cerotto transdermico l'anello vaginale contraccettivi d'emergenza ormonali e i dispositivi intrauterini con o senza ormoni le famose spirali ed il dispositivo sottocutaneo. Ecco sono informazioni che eh non mi sembra che siano facilmente reperibili e eh facilmente ecco eh parlate raccontate dette soprattutto ai nostri giovani alle nostre giovani. Auguro a tutti e a tutte una buona serata ci sentiamo per la prossima puntata di Tabù e Tatù su Radio Sancara. Buona serata.